La biblioteca italiana vous présente Canne al vento de Grazia de L'Edda All'alba partì, lasciando il ragazzo a guardare il podere. Lo stradone fino al paese era in salita ed egli camminava piano perché l'anno passato aveva avuto le febbre di malattia e conservava una grande bolezza alle gambe. Ogni tanto si fermava volgendosi a guardare il podere tutto verde fra le due muraglie di fichi d'India e la capanna lassù, nera, fra il glauco delle canne e il bianco della roccia, gli pareva un nido, un vero nido. Ogni volta che se ne allontanava lo guardava così, tenero e melanconico, appunto come un uccello che emigra. Sentiva di lasciarla su la parte migliore di se stesso, la forza che dà la solitudine, il distacco dal mondo. E andando su per lo stradone attraverso la brughiera, i giunchieti, i bassi ontani lungo il fiume, gli sembrava di essere un pellegrino, con la piccola bisaccia di lana sulle spalle e un bastone di Sambuco in mano, diretto verso un luogo di penitenza, il mondo. Ma sia fatta la volontà di Dio, andiamo avanti. Ecco a un tratto la valle aprirsi e sulla cima a picco di una collina, simile a un enorme cumulo di ruderi, apparire le rovine del castello. Da una muraglia nera, una finestra azzurra, vuota come l'occhio stesso del passato, guarda il panorama melanconico rosio di sole nascente, la pianura ondulata con le macchie grigie delle sabbie e le macchie giallognole dei giunchieti, l'avena verdastra del fiume, i paesetti bianchi col campanile in mezzo come il pistillo nel fiore, i monticoli sopra i paesetti e in fondo la nuvola color malva e oro delle montagne nuoresi. Efix cammina, piccolo e nero, fra tanta grandiosità luminosa. Il sole obliquo fa scintillare tutta la pianura. Ogni giunco ha un filo d'argento, da ogni cespuglio di euforbia sale un grido d'uccello, ed ecco il cono verde e bianco di Monte Galte, solcato da ombre e da strisce di sole. E ai suoi piedi il paese, che pare composto dei soli ruderi dell'antica città romana. Lunghe muricce in rovina, casupole senza tetto, muri sgretolati, avanzi di cortili e di recinti. Catapecchie intatte più melanconiche degli stessi ruderi fiancheggiano le strade in pendio, selciate al centro di grossi macigni. Pietre vulcaniche sparse qua e là dappertutto danno l'idea che un cataclisma abbia distrutto l'antica città e disperso gli abitanti. Qualche casa nuova sorge timida fra tanta desolazione. E piante di melograni e di carrubi, gruppi di fichidindia e palmizzi danno una nota di poesia alla tristezza del luogo. Ma a misura che Efix saliva, questa tristezza aumentava e a incoronarla si stendevano sul ciglione all'ombra del monte, fra siepi di rovi e di euforbie, gli avanzi di un antico cimitero e la basilica pisana in rovina. Le strade erano deserte e le rocce a picco del monte apparivano adesso come torri di marmo. Efix si fermò davanti a un portone attiguo a quello dell'antico cimitero. Erano quasi uguali i due portoni, preceduti da tre gradini rotti in vasi d'erba. Ma mentre il portone dell'antico cimitero era sormontato da un'asse corrosa, quello delle tre dame aveva un arco in muratura e sull'architrave si notava l'avanzo di uno stemma, una testa di guerriero con l'elmo e un braccio armato di spada. Il motto era «Quiz resisti tuyas?» C'était un extrait en langue originelle par la biblioteca italiana Pofa Pofa Grazie a tutti.